Qualcosa attraversa, qualcosa passa dalla mia testa, qualcosa è in qualche luogo, di quello non resta nulla, nell'aria che vibra nell'aria. È come se in Cile il passato dissolva il presente, sia ancora troppo presente. Sì, chiaro, sì. Non vogliamo né vedere né riconoscere. C'è una specie di mutismo di fronte a ciò che non succede. Ma il discorso politico agisce verso il futuro. Verso il sogno. Dobbiamo metterci là, nel presente. Ma in questo presente il passato è qualcosa che si è perso. Quindi è difficile per noi riconoscere quanto ci è successo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.